Partita anche un pochettino nervosa, dipendentemente dal fallo, subito dopo la partita Anche tu mi sembra che sei stato protagonista di qualche uno Sì, io già, nel senso che vedevo in campo, te l'ho detto prima della tribuna Poi anche ancora più nervoso, vedere che i miei compagni, chi lo prendeva per il collo Chi calci, chi pugni A fine partita, quello che posso dire, io sono andato subito giù Perché già c'erano molti giocatori del Camarat che ridevano ai nostri tifosi Non solo i nostri tifosi hanno applaudito loro che hanno vinto, va bene, ci può stare Però io penso che quando finisce una partita si deve avere anche rispetto per la squadra che ha perso Noi eravamo dentro casa e sinceramente loro sono usciti Grazie